Ucciso Abe, ucciso Abe, il premier giapponese, bene, succedono delle belle, i grandi alleati degli Stati Uniti vengono meno, abbiamo Boris Johnson, adesso Abe, probabilmente c'è la zampino della Cina, sicuramente, e della Russia, secondo me, c'è il mondo che è in subuglio, d'altronde, sai, hanno costruito una terza guerra mondiale a tavolino, qualcuno si è preso le sue responsabilità. Comunque è stato ucciso Abe, è una notizia bomba, è una notizia che hanno battuto le agenzie adesso, non lo so, ho acceso la televisione perché non mi funziona il cellulare, ho ucciso Abe, il premier giapponese, ovviamente era una persona, il Giappone è un popolo mite, anche se ha avuto sempre una sudditanza verso gli Stati Uniti molto criticabile, perché comunque sia verso il consumismo e l'imperialismo americano, comunque lasciamo perdere, sicuramente c'è una rivalità aperta con la Cina. Cina e Giappone non si sono mai amati, non vorrei che ci fosse lo zampino di Xi e di Putin, questo per dire che Putin e Xi sono molto più forti di quello che la letteratura occidentale vuole farci credere.